Un'ulteriore zavorra che ci portiamo dall'emergenza rifiuti, ormai noi siamo appesantiti dai commissariamenti che ci hanno preceduto, dal CR8 del terremoto all'emergenza rifiuti del Partito Democratico in salsa Bassolino-Iervolino. I cittadini si dovrebbero ribellare, dovrebbero andare a prendersi il maltolto di chi ci lascia in condizioni ancora di difficoltà ed è una partita tutta interna comunque al governo perché sono commissariamenti e quindi come il CR8 così come questi noi ci attendiamo una risposta forte del governo perché la città di Napoli e il comune di Napoli non è disposta più a pagare per le colpe, gli errori e le nefandezze di altri. Stiamo superando tutte le difficoltà che governiamo con le mani pulite, che abbiamo tolto i rifiuti e dobbiamo stare in piano di riequilibrio e pagare i debiti, le nefandezze, le malefatte di chi ci ha preceduto perché di questo stiamo parlando praticamente. Quindi è veramente una vicenda che sta cominciando a diventare paradossale e anche un po' sospetta francamente perché mi sembrano tutte le vicende che accadono proprio quando la città sta finalmente decollando e vuole decollare sempre di più. E teniamo ancora il tentativo di parte di qualcuno di metterci le zavorre per fatti del passato, in alcuni casi addirittura di un passato che comincia a essere anche abbastanza remoto. Grazie. Grazie. Grazie.